L'informazione è fondamentale in questo caso, noi siamo qui all'università perché riteniamo ancora una volta che l'università è la fucina della cultura, il terzo livello, chiamiamo così, anche perché l'università va a formare i nostri dirigenti del domani, i nostri uomini del domani, quindi è anche migliore fra le altre cose. Fra i ragazzi abbiamo avuto sempre le vostre soddisfazioni, noi ci dobbiamo volere bene perché è fondamentale questo passaggio qui. Questa città in effetti soffre tantissimo la credenza di sangue, basti pensare che noi dipendiamo da altre province, dalla Sicilia, noi mancano 8 mila sacche l'anno di mazze concentrate, più piastrine, altri fattori di emocomponenti che servono per curare le eucemie e tante altre malattie, sia acute che croniche. Quindi voi pensate benissimo che ogni giorno se noi dividiamo 8 mila per 365 giorni, la proporzione che manca sembra poca e questa è la rabbia perché basterebbero 30 sacche, 25 sacche al giorno per sopperire al gap che noi abbiamo come deficit e quindi i nostri ospedali lavorassero in forma programmata.